Tartaraia è un progetto che si occupa di ridurre il danno nella pesca. Presidente, che esemplare verrà rilasciato quest'oggi qui nelle acque di Fano? È un esemplare molto giovane di Caretta Caretta, Tom, che si era spiaggiato qui proprio a Fano a fine marzo. È stata curata da noi, sta bene, è un animale molto piccolo, avrà 4 anni circa di età. L'età si desume dalla dimensione del carapace di solito. Infatti è un carapace di 26 cm, un peso poco superiore al chilo. Plastiche, microplastiche sono il grosso problema, le reti, è un flagello per loro? Soprattutto è un flagello la pesca, poi in seconda istanza, ma questo poi invece come per tutti gli altri animali del mare, è la plastica. È ovvio che i pericoli in mare sono tantissimi, anche il rumore ad esempio. L'aumento improvviso del rumore crea dei grossi disagi alle popolazioni ittiche e a tutti gli animali che stanno in mare. Quindi diciamo che a quanto sembra noi facciamo di tutto per danneggiare il nostro mare. Sarebbe vorrei che cominciassimo a pensarlo come una cosa viva, un vero polmone enorme che ci dà la vita e quindi rispettarlo e tenerlo molto meglio. In il caso di allamaggio di un esemplare, cosa fa? Allora, l'allamaggio di una tartaruga marina è un evento dalle nostre parti non così consueto, ma c'è. Però un pescatore sportivo eccetera che allama una tartaruga, la prima cosa che deve fare è non tirare per la lenza, ma usare un guadino, un retino per tirarla a bordo. tagliare la lenza non all'altezza del becco, ma lasciare un pezzo di lenza a cui attaccare un oggetto, un oggetto che dà la grandezza di un ditto e della lunghezza di una quindicina di centimetri e fare in modo che la tartaruga non ingoi la lenza, perché questo è il vero e condennare la morte è molto male, di una morte molto dolorosa. Allora, un momento bello in una spiaggia tutta dedicata al mondo animale, insomma quindi siete nel posto giusto, nel momento giusto. Sì, siamo felicissimi di ospitare questo evento, il rilascio della tartaruga Tom, che speriamo è il primo di una lunga serie di eventi di sensibilizzazione sull'ambiente marino e di rispetto dell'ambiente marino. Sindaco, Fanno è stata una delle prime spiagge ad avere una sensibilità in questo senso, a dare la concessione per una spiaggia tutta dedicata agli animali, quindi siamo veramente a tema. Sì, devo dire, possiamo veramente in questo caso dire leader anche nazionali, perché non solo abbiamo riconosciuto questo spazio, ma è veramente ben gestito, è un'elite ed è ricercatissimo anche in tutti i siti che parlano di questi servizi, un po' in tutta Italia, tant'è che ci sono con largo anticipo tante prenotazioni, ma quello che mi piace sottolineare oggi è questa sensibilità che abbiamo nei confronti degli animali, in questo caso del mare, della tartaruga, ma vuole essere questo gesto, anche questa valorizzazione di questo momento, anche un richiamo, un richiamo al rispetto della natura, un richiamo al rispetto del mare, un richiamo a non buttare plastica in acqua, perché tutti questi piccoli gesti di maleducazione, di insensibilità, portano dei danni enormi a tutto il sistema, agli stessi animali, le stesse tartarughe, ma io direi proprio a tutto il sistema marino. Grazie a tutti, grazie a tutti.